Musica Prima uscita autunnale lungo la Gordino dall'abitato di Frasenè lungo la Val Domadore per raggiungere così Malga Luna la vetta del Col di Luna e il rifugio Scarpa Gurekian Musica Lasciata quindi Malga Luna si prosegue attraverso i boschi su sentiero 772 in direzione del Passo Col di Luna Musica 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 Arrivato quindi al Passo di Luna a circa 1718 metri una piccola deviazione che in dieci minuti accompagna fino alla vetta alla croce di vetta del Col di Luna Musica 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 Arrivato quindi alla croce di vetta del Col di Luna a 1780 metri ora si ritorna nuovamente in direzione del Passo Col di Luna Sentiero 773 destinazione rifugio Scarpa Gurekian Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo il rifugio Scarpa Gurekian si torna nuovamente a valle, sentiero 771 in direzione di Frasenè. Al Col di Luna e al rifugio Scarpa Gurekian, nella Gordino. Punto di partenza la località di Frasenè, a poco più di mille metri di quota. Come tempi di transito dalla località di Frasenè fino alla croce di vetta del Col della Luna, circa tre ore di cammino. All'incirca un'ora poi dalla vetta del Col della Luna per raggiungere il rifugio Scarpa Gurekian. E un'altra oretta, poco più, per scendere nuovamente alla località di Frasenè. Grazie. 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 Grazie.